A Fasano sono arrivati cinque nuovi mezzi per la mobilità del trasporto pubblico locale. Si è chiuso il percorso condiviso e iniziato due anni fa con il progetto Smart Go City. I cinque nuovi bus, moderni e soprattutto meno inquinanti, sono uno ad alimentazione completamente elettrica e di piccole dimensioni, adatto a circolare nel centro storico e dedicato al servizio di trasporto interno al nucleo urbano di Fasano e quattro mezzi con alimentazione a diesel Euro 6 di due differenti dimensioni da 8 e 12 metri, una scelta calibrata sui bisogni di mobilità dei cittadini che risiedono nelle tante frazioni del territorio, tenendo in considerazione le esigenze di spostamento di tanti studenti pendolari. I nuovi autobus già operativi da qualche giorno saranno implementati con una serie di dotazioni tecnologiche che permetteranno di offrire servizi aggiuntivi come la geolocalizzazione per permettere agli utenti di avere il preciso orario di arrivo nelle varie fermate e integrati poi con moderne funzionalità in rete per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico in un'ottica di transizione graduale ma continua verso forme di mobilità sostenibili. Questi cinque mezzi completamente nuovi che sono stati allestiti dal comune di Fasano grazie al bando europeo e che ci permetteranno di servire in maniera ottimale l'utenza del nostro comune, quindi sia i cittadini che si spostano dalle frazioni verso il centro ma anche una navetta di piccole dimensioni elettriche che verrà messa in esercizio all'interno dell'abitato del comune di Fasano. Un finanziamento ottenuto grazie al bando Smart Hugo City, l'obiettivo è quello appunto di rinnovare la flotta dei mezzi a disposizione del trasporto pubblico locale di Fasano con emissioni ridotte e con dimensioni ridotte che renderanno più agevole anche il transito nel centro cittadino. Grazie a tutti.